Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio Continuiamo la nostra avventura su Black Desert Online perché oggi vi spiegherò un altro paio di cose che sono riuscito a capire sia guardando comunque dei video su YouTube ovviamente in inglese che poi ho tradotto io stesso in italiano e poi vi dirò anche delle piccole chicche che magari voi potreste accorgervi giocando per un paio d'ore così magari vi faccio risparmiare un po' di tempo allora oggi gli argomenti di cui parleremo fondamentalmente sono 2-3 perché vi voglio parlare dei nodi, ovvero i nodes successivamente vi voglio parlare anche del potenziamento del vostro equipaggiamento e poi vi voglio parlare del marketplace però andiamo con ordine partiamo subito con i nodes, ovvero con i nodi che cosa sono i nodi? in questo gioco è presente la facoltà di poter utilizzare degli oggetti per poter ricavarne degli altri che cosa vuol dire? esiste il gathering chi gioca agli MMORPG o comunque ha giocato agli MMORPG sa che cosa vuol dire ovvero utilizzare degli arnesi come l'accetta, il piccone, la falce per poter ricavare determinati oggetti che possono essere pezzi di tronco di albero possono essere minerali possono essere frutti possono essere possono essere frutti possono essere un tipo particolare di erba eccetera eccetera che ovviamente servono sia per craftare e servono anche per comunque realizzare determinate cose che cosa vi serve per poter sfruttare questi nodi? allora innanzitutto vi occorre una casa un magazzino e dei lavoratori però andiamo con ordine innanzitutto aprendo la mappa quindi con M e cliccando all'interno della vostra città potrete vedere le case che sono disponibili per essere acquistate ovvero queste qua blu le case in bianco sono quelle che ho già acquistato io mentre invece le case mentre invece le case in blu sono le case che possono essere acquistate quando voi tentate di acquistare una casa come potete vedere avete la possibilità di scegliere in particolari diciamo dei particolari specialistiche delle particolari specializzazioni lo storage quello che vi dicevo prima è il vostro magazzino quindi voi potrete comprare una casa e adibirla come magazzino e questa è fondamentale costa un contribution point come si ottengono i contribution point? ovviamente facendo le quest quindi se voi fate le quest e in un qualche modo nel frattempo ne approfittate anche per aumentare di livello otterrete dei contribution points che sono questi qua che potrete vedere qui sulla sinistra io adesso ne ho 9 perché ho fatto delle quest però comunque come potete vedere il mio massimo è 50 ne ho spesi parecchio perché ho comprato più magazzini ho comprato più case anche per avere una gestione sia in questa città che nell'altra infatti io per adesso sono diciamo mi sto sviluppando in due città per adesso anche se poi effettivamente potre potremmo in un qualche modo possiamo sviluppare in tutte le città e così è crescere e soprattutto accrescere il nostro guadagno vi servirà comprare quindi un magazzino e successivamente vi servirà comprare come ho fatto io come potete vedere io ho comprato una casa personale che allora che vi faccio vedere che è questa qua dove appare l'omino vedete residence quindi sarà questa una vostra casa effettiva al 100% come potete vedere io l'ho un po' arredata sia qui che nell'altra città ho messo una stazione per cucinare che adesso vi spiegherò perché un tavolino una sedia e un letto quindi per adesso ancora non ho diciamo non ho arricchito particolarmente il mio appartamento poi successivamente ho lo storage come potete vedere che ho praticamente il mio magazzino e poi ho questa qua che si chiama il lodging ovvero la casa dei lavoratori che appunto come potete vedere al livello 1 mi permette di acquisire un nuovo lavoratore un lavoratore in più mentre invece al livello 2 me ne permette di acquisire 2 questo perché perché ovviamente il livello del vostro diciamo della vostra casa dei lavoratori implicherà il fatto di poter ospitare più lavoratori e quindi ottenere più risorse una volta che avete questi edifici quindi avete una casa vostra potete anche evitarla all'inizio cioè potete prendervela ma potete anche evitarla io vi consiglio comunque di prendere subito il magazzino che è fondamentale e poi successivamente la casa per i lavoratori una volta fatto questo potrete assumere i lavoratori che nella città in questo caso nella città di Velia vengono assunti qui da questo tizio ovvero santo manzi quando voi ci parlate ed utilizzate il tasto contract workers vi permetterà ecco io adesso non ne posso prendere più però vi permetterà di scegliere i lavoratori che voi potete assumere il primo solitamente vi permette di poterlo scartare gratis tra virgolette mentre invece poi per poter assumere e poter scartare dei lavoratori avrete bisogno di 5 punti energia ovvero questi qua che si trovano qua sopra gli energy point questi energy point ovviamente per fortuna nostra si ricaricano ogni 3 minuti quindi ogni 3 minuti avremo un energy point però se siamo accorto di energy point vi consiglio di fare le quest in modo tale da poter ricaricare appunto i vostri energy point una volta assunti i vostri lavoratori e quindi aver raggiunto il numero massimo di lavoratori vi apparirà questa finestrella qui che come potete vedere c'è scritto workers ovvero workers se premete il tasto sinistro del mouse potete vedere come il vostro diciamo come i vostri i lavoratori in questo caso stanno lavorando da me per adesso ne stanno lavorando soltanto 3 anche se ne ho di più ne ho presi di più che però sono diffusi tra questa e l'altra città i lavoratori ovviamente lavoreranno per voi nei nodi quindi è fondamentale averli per poterli sfruttare nei nodi ma che cosa sono questi nodi se andiamo sulla mappa e guardiamo queste specie di biforcazioni questi sono i nodi quindi questo 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 eccetera eccetera i nodi sono appunto diciamo dei punti dove è possibile ottenere le materie prime io per adesso mi sono sviluppato nella seconda città come potete vedere di Eidel dove ho maggiore controllo perché ho stabilito qui diciamo la mia mother base chiamiamola così e infatti sto sfruttando tre nodi nel quale il primo sto raccogliendo l'erba per poter produrre la birra che sarà fondamentale per i vostri lavoratori e poi un altro nodo dove sto sfruttando due nodi per poter ottenere l'iron ore è la powder or flame che per adesso non so cosa mi serve la powder or flame però la voglio prendere lo stesso perché nell'eventualità l'avendo ma cosa fondamentale come si abilitano questi nodi i nodi si abilitano in questo modo voi dovrete andare fisicamente a piedi o col cavallo o com'è che sia presso il responsabile del nodo che vi verrà scritto qua sopra che in questo caso è gemcast wearsbane parlando con questo gemcast wearsbane che si trova praticamente nelle vicinanze del nodo potrete investire i vostri contribution points in base ai contribution points che voi investirete potrete sfruttare i nodi solitamente un nodo costa un contribution point ma potreste anche investirne di più per sbloccare il come ho fatto io qui l'apposto di guardia in modo tale da avere un beneficio in più solitamente i posti di guardia costano tre contribution point e i nodi un contribution point quindi sbloccati i nodi potrete automaticamente selezionare un vostro lavoratore dalla vostra lista che però sia necessariamente vicino come potete vedere su questo raggio che sia abbastanza vicino per poter comunque lavorare all'interno del vostro diciamo del range a sua disposizione e quindi poter collezionare i vostri materiali il magazzino vi serve proprio per questo perché i materiali che i vostri lavoratori prenderanno durante il loro farming chiamiamolo così verranno depositati automaticamente nel vostro magazzino ovviamente il magazzino più vicino quindi se voi avrete i nodi vicino a questa città il magazzino di questa città verrà riempito altrimenti verrà riempito il magazzino della città più vicino a dove si trovano i lavoratori e fin qua è abbastanza semplice quindi ricapitoliamo bisogna avere un magazzino la casa dei lavoratori prendere i lavoratori andare fisicamente quindi voi di persona dovrete andare presso il responsabile del nodo parlarci sbloccarlo con i contribution point e successivamente mettere un lavoratore che lavorerà per voi ed estrarrà i materiali per voi perché questo potreste farlo anche voi con i materiali ma perdereste non solo una marea di tempo ma perdereste anche tutta l'energia perché ogni volta che voi affronterete diciamo una sessione di gathering perderete energia e quindi praticamente il gioco si ridurrebbe a un minecraft praticamente a mm o rpg a molti piace però sinceramente a me no a me piace comunque andare in giro fare le quest combattere eccetera eccetera detto questo penso di aver spiegato abbastanza bene credo i nodi comunque se avete dubbi o comunque volete delle delucidazioni potete contattarmi tranquillamente o qui su youtube o sulla mia pagina facebook sono disponibile a dare spiegazioni o comunque a spiegarvi anche passo passo tutto quello che ho fatto voglio vedere una cosa ovvero voglio andare nella mia casa che è questa residence per vedere se è arredata no infatti questa non è arredata ok allora preferisco arredarmi poi la casa quella che ho nell'altra mappa per diciamo renderla più bella e poterla rendere in first class perché poi quando renderete una vostra casa in first class avrete la possibilità di investire denaro e quindi anche giocare in borsa e anche successivamente guadagnare molti più soldi di quelli che si possono guadagnare adesso ma questo è un altro discorso che poi vi spiegherò quando ovviamente ci arriverò una volta chiuso questo capitolo vi voglio parlare del marketplace cos'è il marketplace il marketplace è il mercato dei giocatori ovvero dove tutti gli oggetti che voi potete prendere all'interno del gioco possono essere venduti in cambio di silver ovvero la moneta locale però non con gli npc come facevamo ovviamente con questi ovvero con i venditori ambulanti chiamiamolo così ovvero i venditori di goods come vengono chiamati qua oh c'è un goblin qua che possiamo catturarlo eh l'ho preso però vediamo se adesso lo posso riportare qua perché nel frattempo ho trovato la quest eh ma io l'ho preso boh non me lo fa prendere comunque vabbè non mi interessa comunque vi stavo dicendo voi potrete vendere i vostri oggetti anche qui ovvero nel commercio generale ovvero nel general shop voi prendete gli oggetti premete il tasto destro e li vendete e vi fate i soldi però per fare più soldi rispetto a questa zona cioè ovvero dove vendete gli oggetti gli npc dovrete andare qui dove appunto c'è il banditore dell'asta ovvero il marketplace come funziona il marketplace il marketplace ovviamente funziona così selezionate la voce marketplace e come potete vedere vi spunta il menu dove potrete selezionare qualsiasi oggetto del gioco ovviamente sulla sinistra avete le categorie ovvero le armi principali le armi secondarie le awakening le armature accessori materiali incantamenti consumabili eccetera eccetera ovviamente qua nella prima pagina iniziale vedrete i top diciamo le top vendite ovvero quelle che si vendono di più che sono anche gli oggetti magari più richiesti o quelli che si cercano comunque di vendere più facilmente poi se volete cercare un oggetto in particolare basta cercarvelo nelle categorie oppure inserire il nome qua sopra dove c'è scritto item name e tranquillamente potete acquistare il vostro oggetto una volta detto questo voi qua come fate a vendere i vostri oggetti è molto semplice andate qui in basso e inserite e cliccate la sezione my listing come potete vedere io già ho messo degli oggetti in vendita e nel momento in cui voi riuscirete a vendere l'oggetto vi apparirà qui sulla destra collect money infatti io sono riuscito a fare già 3 milioni e passa di silver vendendo tutti gli oggetti che ho preso durante il gioco o comunque che ho acquistato ne ho tantissimi altri in vendita che penso molto probabilmente non verranno mai venduti però io li ho messi e li lascio qua a vendere tanto non mi costa cioè non mi interessa praticamente e posso tenerli in vendita nell'eventualità vengono venduti mi apparirà la notifica in basso qui sotto in basso ecco come potete vedere oppure premendo B come potete vedere vedete marketplace item sales notification ovvero sono tutte le notifiche praticamente del dei miei oggetti che sono stati venduti io ovviamente poi li seleziono e li cancello perché non mi interessa quindi cancelliamoli perfetto non ci sono più meglio quindi controlliamo e vediamo effettivamente se ci sono oggetti ma penso che io già li ho ritirati i soldi sì infatti perché erano quelli di prima quindi già li ho ritirati e qui potrete comprare tutto quello che vi serve e tutto quello che volete state attenti però a non spendere troppo anche perché comunque soprattutto se non siete ancora come me a livello 50 o addirittura a livello 56 vi consiglio sempre di tenervi un po' di soldi da parte per quando sarà e prendere la vostra arma awakened che è appunto l'arma super chiamiamola così del vostro personaggio che vi permette di ottenere una potenza eccezionale soprattutto anche perché dopo il livello 50 ho scoperto che si sblocca il pvp e quindi voi all'interno della mappa che è tutto un open world quindi non c'è una sezione dedicata al pvp gli altri player potrebbero attaccarvi e quindi di conseguenza anche uccidervi non perderete niente state tranquilli però possibilmente degli incantamenti deboli che avete all'interno delle vostre armi o armature potrebbero svanire e questo diciamo è la pecca magari di questo gioco perché molti potrebbero approfittarsene essendo comunque di livello più alto e potrebbero approfittarsene di quelli che sono appena arrivati al livello 50 e che magari non hanno un equipaggiamento così eccezionale come lo possono avere loro magari già a livello 56 e oltre detto ciò passiamo all'altra parte del video ovvero per quanto riguarda il potenziamento di armi armature e accessori allora io già ho preparato tutto proprio per fare un discorso anche abbastanza abbastanza pulito e ordinato perché è anche una questione di precisione cioè dovete essere molto precisi per quanto riguarda il potenziamento allora la cosa buona di questo gioco è che l'equipaggiamento si divide soltanto in comune ovvero gli oggetti bianchi gli oggetti azzurri come questi gli oggetti verdi e gli oggetti rari che sono quelli gialli che quindi valgono di più non ci sono armature armi leggendarie come su gv2 ad esempio quindi dovete craftare le cose no assolutamente ci sono le armi e voi potete semplicemente potenziarli e potenziandoli raggiungeranno dei livelli eccezionali tra di loro detto questo passiamo alla parte tecnica del potenziamento come avviene il potenziamento premete virgola per far apparire il vostro black spirit e come potete vedere appare nei menu enchantment e transfusion transfusion permette di inserire un cristallo all'interno di una vostra armatura arma o armatura in base ai cristalli che voi avete potrete potenziare le vostre armature io per esempio posso potenziare se non sbaglio ecco l'armatura mettendo un solo cristallo e io direi di mettere questo si e come potete vedere è già equivaggiato e quindi già come potete vedere col magic crystal of abundance poi il braccio lo posso mettere no non ho cristalli il piede si ho questo che mi da knockback floating resistance più 5% va bene quindi lo possiamo inserire e abbiamo transfuso anche questo l'elmo possiamo mettere evasion più 4 buono e abbiamo potenziato anche l'elmo col cristallo molto semplice col tasto destro cliccate sul pezzo di armatura e poi successivamente sul cristallo che volete equipaggiare e questo per quanto riguarda la trasfusione ovvero la transfusione per quanto riguarda l'incantamento innanzitutto mettiamo skip enchantment animations e la questione è un po' più complessa perché per potenziare le armi avrete bisogno di questi qua che ora ve li faccio vedere da questo lato avrete bisogno di questi delle blackstone weapon mentre invece per le armature avrete bisogno delle blackstone e poi tra parentesi armor possono essere acquistate al marketplace ma costano all'incirca 200.000 silver l'uno quindi state attenti quante ne volete acquistare e poi fate le vostre scelte a meno che voi abbiate questi token che sono gli strikers seal che in questo momento sono un oggetto evento perché è stato rilasciato appunto la classe dello striker e possono essere ottenuti o tramite quest o tramite drop randomico dei mostri ottenendone 10 potrete ottenere una blackstone armor ottenendone 15 potrete ottenere una blackstone weapon e quindi di conseguenza poi o venderle per fare soldi o utilizzarle per potenziare i vostri oggetti come potete vedere io ne avevo accumulati abbastanza infatti ho tutte le armature già potenziate a più 5 e anche le armi una potenziata a più 5 e l'arma principale addirittura potenziata a più 9 questo perché perché un'altra cosa bella di questo gioco è che il potenziamento di queste armi non implica la loro distruzione quindi voi potete tentare potete tentare nel potenziare le vostre armi all'infinito perché le vostre armi non si distruggeranno però perderanno la loro durabilità come potete vedere in basso vedete il segno il segno durability è sceso da 100 a 85 quindi ripararlo vi costerà poi successivamente di più quindi dovete stare attenti a non distruggere troppo le vostre armi perché poi nel momento dove le dovete riparare e non riuscite ad accumulare i soldi necessari per la riparazione potreste restare senza armi e quindi di conseguenza potrebbe essere un problema per voi detto questo vi faccio vedere adesso come si potenziano le armi e le armature e anche gli accessori perché gli accessori a differenza di armi e armature non hanno bisogno delle blackstone ma hanno bisogno di un'arma uguale o simile ad essa che cosa vuol dire vi spiego subito quindi premiamo un'altra volta la virgola e andiamo su enchantment le armature io per adesso non le devo potenziare più perché già più 5 vanno bene anche vendendole guardate che già si fanno quasi un milione a testa e non è male potrebbe essere anche un buon business potenziarle e poi rivenderle anche se però effettivamente non se le compra nessuno perché giustamente sanno che fino al più 9 il potenziamento è praticamente certo dal più 9 in poi avrete bisogno di queste qua delle chrome stone ovvero delle protezioni che servono a rendere sicuro il vostro power up possono essere trovate dal blacksmith ovvero dall'armaiolo e costano un milione di silver luna io infatti ne ho acquistate due perché ho intenzione di potenziare la mia arma e portarla al più 11 e questo lo faremo insieme quindi le armature per ora non le sto potenziando anche se effettivamente potrei potevo potenziarle ma vediamo magari con i soldi che ho messo da parte me le porto al più 9 e basta per ora e poi successivamente potenzierò le armi eccetera eccetera però quando sarò di livello alto così nel frattempo avrò la possibilità anche di accumulare un po' più di disponibilità economica detto ciò vi faccio vedere come si potenziano gli accessori allora gli accessori a differenza di armi e armature ho detto che vanno potenziati tra di loro quindi come potete vedere io ho acquistato già una coppia di ognuno un orecchino sono già riuscito a potenziarlo sinceramente proverò a potenziarlo proverò a potenziarlo anche adesso anche se penso che non ci riuscirò mai e c'è da dire anche che però gli accessori a differenza di armi e armature si distruggono quindi se non riuscite a potenziarli si distruggeranno e questa già può essere una cosa che mi può fare storcere il naso ed effettivamente sì è vero anche a me ha fatto storcere il naso però purtroppo è così allora proviamo a potenziare la cintura quindi selezioniamo tasto destro e tasto destro insieme e facciamo enchantment eh dovevo mettere skip non l'ho messo però vabbè e vediamo oh ce l'abbiamo fatta grandioso abbiamo ottenuto una cintura più una come potete vedere abbiamo ottenuto la pre bear's belt ovvero la prima trasformazione della nostra cintura buono sinceramente buono buono poi proviamoci anche con la collana ecco non ci siamo riusciti quindi di conseguenza la collana è stata distrutta tranquilli che tanto la comprerò dopo perché non costa tantissimo per questo lo sto facendo e poi proviamo gli orecchini li proviamo gli orecchini proviamoli ecco ovviamente non ci sono riuscito quindi dovrò ricomprarmi gli orecchini va bene non è questo il problema adesso invece potenziamo l'arma quindi mettiamo l'arma mettiamo anche il nostro il nostro cristallo e poi utilizziamo la protezione protect potential level from falling upon use chrome stone in chrome stone is used e a me ce l'ho perché non me la fa usare allora mettiamo questo new and returning adventure recommend try enchanted focus primarily there is a chance the enchantment on this mighty fail eh ma io ce l'ho qua le chrome stone ah for weapon or duo or higher ah weapon of duo or higher level quindi per ora non mi servono quindi se io tento di far il suo la sua durabilità scende di 30 va bene proviamoci niente non ci siamo riusciti riproviamoci oh più 10 ce l'abbiamo fatta dai buono meglio di niente ok ah però devo averne per 7 per garantire una forza enchantment però la sua durabilità scende di 40 ah vabbè ho capito quindi è diciamo la ok la forzatura al potenziamento sì sì ok l'ho capito quindi se voi forzate il potenziamento scenderà la durabilità della vostra arma ovviamente mi sembra anche mi sembra anche giusto quindi queste qua le cronstone posso conservarle direttamente in banca quindi direi di andare subito in banca ci andiamo insieme così magari vi faccio vedere anche dove si trova si trova praticamente sotto il marketplace parlate col tizio andate su warhouse e inserite e inserite la vostra appunto inserite le vostre le vostre pietre va bene quindi devo comprarmi l'orecchino che mi è mi si è sfanculizzato e la collana va bene andiamo quindi orecchino e collana devo comprare marketplace quindi andiamo su no armor accessori quindi la collana abbiamo detto e l'orecchino quindi questo qua uno benissimo comprato e l'orecchino comprato che per fortuna costano poco quindi alla fine non non è quello il problema poi si questo qua questo questo la cintura e l'arma perfetto così come potete vedere ho il totale dei punti di attacco 71 e i totali punti di difesa 73 e diciamo che sono abbastanza bilanciato come personaggio è abbastanza bilanciato bene direi che per adesso vi ho spiegato tutto quello che vi potevo spiegare quindi spero di essere stato chiaro spero che la mia guida possa essere utile a quelli che magari hanno iniziato a giocare da poco come me e quindi vi ringrazio per essere stati con me e ci vediamo nella prossima puntata grazie a tutti grazie a tutti